Cara mamma, tu non ti puoi immaginare a che punto ci troviamo. Si lavora da mattina a sera, senza avere un minuto di tempo. E solo posso scriverti quando vado in trincea, che terminate le due ore di guardia, che posso dire due ore di tribolazione, mi aspetta il riposo, ed allora come adesso ne approfitto per scriverti. Di regola qui si va trenta sotto zero, tanto che il pane che ci danno è tanto gelato che non si può rompere con il coltello, perché non ci entra nemmeno dentro. Mi manchi, scrivimi presto, tuo Riccardo. 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 Grazie a tutti.